Si può accendere soltanto quando lo sport è veicolo di crescita sociale e civica delle nuove generazioni. Questo è il messaggio principale del nuovo progetto delle Fiamme Oro, che in sette appuntamenti in Veneto, da qui a ottobre, punta a coinvolgere chiunque voglia avvicinarsi ai valori e alla pratica dell'atletica leggera. In ogni evento di questo grande progetto vogliamo far parlare proprio i giovani e raccontare dai campioni le esperienze e le difficoltà che sono stati capaci di superare. Tra le testimonianze portate a Padova, quella della pluricampionessa di saldo con l'asta Elisa Molinarolo, che ha raccontato i suoi anni tra lavoro full time e allenamento, e quella del recordman nazionale di saldo in lungo under 20, Mattia Furlani. Sono figlio d'arte, quindi la mia passione per l'atletica è nata in campo, poi soprattutto anche con mia sorella, che anche lei fa parte delle Fiamme Oro, Erika, ho seguito tutti i suoi percorsi di crescita, quindi dai mondiali agli europei, l'ho seguito tutti, quindi in automatico mi sono sempre innamorato di più della pista, essendo appunto praticamente dentro la pista anch'io, e il mio amore è nato semplicemente così. Si partirà a Cortina d'Ampezzo il primo agosto con un evento che celebrerà la giornata storica in cui due anni fa Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs vinsero loro a Tokyo a qualche minuto di distanza. I link per partecipare sono nei canali social delle Fiamme Oro.